Franco Fiardi, come ha sottolineato qualcuno nel gruppo seguitissimo sui social, la manifestazione di Italia Civile diventa maggiorenne? Sì, questa è la diciottesima edizione e è saltata solo una nel 2020 per ovvie ragioni che conosciamo. Se no anche l'anno scorso in miniatura l'abbiamo comunque fatta e sì, speriamo che qualcuno prenda però il testimone per continuare perché gli anni passano, almeno per me passano e speriamo qualche giovane, qualcuno si ispira a queste cose che non ne vedo tanto in giro, ecco questa è la verità. Gli anni passano ma nessuno avrebbe mai pensato che quest'anno si tornava a parlare di pace, o meglio, di sperare che torni la pace. Quest'anno la cosa è molto sentita e insomma praticamente chi si pensava mai che dovevamo tornare dopo 75 anni dalla guerra, tornare ancora a parlare di guerre, di guerre in Europa, l'Europa, la cultura che noi abbiamo fatto della pace. Pare che come tutti sapete non è così. C'è una guerra in atto in Ucraina per un territorio da conquistare, per qualcosa dove muoiono parecchie persone, migliaia e migliaia di persone. Questo non è possibile. Ecco che finalmente ha senso pure questa manifestazione che le prime volte dice ma che serve parlare di pace, di Costituzione? No, no, serve. Bisogna coltivarle queste cose, cioè non darle per scondate, abbiamo le prove. Valori fondanti e non valori acquisiti? Sì, sono fondanti perché in quel momento storico che è stata scritta la Costituzione, naturalmente la dittatura, la guerra, la fame, la voglia di pace, la voglia di far partecipare il popolo direttamente, non si sarebbe potuta scrivere in altri momenti questa bellissima nostra Costituzione. Teniamocela cara, ecco. Va bene?